Grazie a tutti. A mio avviso è uno dei più bei volumi, almeno di quelli della prima serie un po' più impegnativa sulla Divina Volontà, che oggi ci fa vedere alcuni dei portenti meravigliosi della Santità nel Divino Volere, della differenza che intercorre tra questa Santità e la cosiddetta Santità individuale che si è succeduta nel corso della storia, che certamente riguarda i singoli che l'hanno vissuta e ha certamente ridondato a bene comune, ma non come questo tipo di Santità che anche oggi vedremo sia in se stessa sia anche però come magistralmente vissuta e incarnata dalla Madonna. Penso che con uno scritto come quello che stiamo per leggere sia impossibile non innamorarsi di questo mondo e di questa realtà sublime. Quindi, onde evitare preamboli troppo lunghi come nella precedente puntata, che purtroppo sono partito e poi sono andato al dirà del seminato, preferisco passare subito al lettore e al commento di questo bellissimo brano. Per chi ha i testi, 20 agosto del 1923, volume sedicesimo del Libro di Cielo. Il titoletto che porta questo capitoletto è questo. La Santità del Libro e nel Divino Volere, attenzione, ad esempio della Santissima Vergine, non tiene nulla del prodigioso all'esterno, ma è Santità che fa bene a tutti, in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Stavo pensando tra me, il buon Gesù dice tante cose mirabili della sua volontà, come non c'è cosa più grande, più alta, più santa dell'anima che chiama a vivere nel suo volere. Sentite che belle le cose che dice, eh? Se così fosse, chissà quante cose mirabili dovrei fare, quante strepitose, anche all'esterno. Invece nulla che affascini, che colpisca. Anzi, mi sento la più abietta ed insignificante, che nulla faccio di bene. Mentre i Santi, quanti bene non hanno fatto, cose strepitose, miracoli. Eppure Gesù dice che il vivere nel suo volere lascia dietro tutti i Santi. Ora, mentre questi e altri pensieri passavano nella mia mente, il mio Gesù si è mostro nel mio interno e con la solita sua luce mi diceva. Faccio una piccola pausa, così intervalliamo un po' l'elevatezza della lettura, con la minore elevatezza del commento che ci fa riprendere un pochino fiato, no? Allora, qui lui si dice una cosa, premette delle cose stupende. Il buon Gesù dice tante cose mirabili della sua volontà, come non c'è cosa più grande, più alta, più santa dell'anima che chiama a vivere nel suo volere. Non c'è. Io amo sempre dire, gentilissimi ragazzi e ragazze carissimi, che non so per quale particolare illuminazione, io ci ho creduto subito a queste cose, proprio seduta stanta, senza nessun dubbio. Appena mi è arrivato il contatto con questi iscritti, un attimo, diciamo così, di focalizzazione, e ho subito detto, qui c'è qualcosa di altro. L'ho detto tante volte, d'altronde questa è la mia testimonianza di vita, è così, con stato giorno dopo giorno che è, e che non mi sono almeno per ora sbagliato. Allora, però, qui lui si dice, ma se questa è una santità così super, probabilmente lei aveva letto tante vite dei santi, no? Pensate alla vita di un Sant'Antonio, la vita di un San Francesco, la vita di un Padre Pio, o altri, no? Che anche in vita hanno fatto veramente di cose grosse e appariscenti, miracoli compresi, no? Cioè, ma se così fosse, chissà quante cose mirabili dovrei fare, su quante strepitose anche all'esterno. Invece, nulla. Nulla che affascini, nulla che colpisca, anzi, mi sento la più abietta e l'insignificante, che nulla faccio di bene, mentre i santi quanti bene non hanno fatto cose strepitose, miracoli, eccetera. Io ripeto sempre le stesse cose, perché racconto che il primo, per la verità, contatto passato che ebbi con gli iscritti, l'ho raccontato nelle prime catechesi, e mi regalano uno scritto dove c'era una foto con questa donnina in copertina, e dico, mo vergogna di queste cose, no? Però lo capisco quando legge queste cose qua. Teo, sta tonnetta, con sti capelli corti, con sta faccetta pulita, semplice, semplice, dico, beh, che è sta roba? Cioè, non disprezzo, perché per carità si vedeva, insomma, che era una brava figliola, però dico, ma che sarà mai? Chi me li presentò, mi ricordo che mariano un pochino di anni fa, la divina volontà, qua e là, nella divina volontà, a destra e a sinistra, dico, per cui è comprensibile, parlavamo, insomma, anche un po' con qualche confratello, recentemente, dice, ma sai, i sacerdoti, sì, sì, per carità, se tu gli dici, i pari che si iscritti, dicono, sì, va bene, per carità, cioè, ma la stessa, la stessa prima arcaica reazione, che è il bio, ad una volontà, nulla di nuovo sotto il solo, lo sappiamo, insomma, no, quindi sarà tutto questo, questo granché, no? e invece così non è, però effettivamente, la vita di lui, se è stata una vita, esteriormente parlando, e la santità nel divino volere, esteriormente parlando, è zero, cioè zero, certamente, basta che uno ha sentito, la meditazione di questa mattina, e che ho, cioè, ci sono delle virtù, che sono ben radicate, e che all'esterno si vedono, e quindi, non è la stessa cosa, se ci stanno, non ci stanno, però quelle sono virtù, che possono accomunare, anche una persona, che percorre un percorso di santità, come dire, normalissimo e comune, qui si va oltre, ecco, però questo andare oltre, non è un, capite, un andare nell'appariscenza, cioè io penso che, il nostro signore, abbia, abbia, come dire, divulgato un po', e stia divulgando un po', attraverso l'opera di tanti, insomma, più o meno preparati, questi scritti, adesso, perché questi sono l'anti, sono l'anti social network, capito, quindi sono, sono proprio, testo che oggi c'è questo uso, come dire, malato, magari qualcuno che sta seguendo, questa trasmissione, poi va in diretta, in contemporanea, in via radio, su Facebook, diciamo, questo parla male dei social network, che sta andando in diretta su Facebook, come dire, non si parla male del social network, ma dell'uso, no, cioè del, del mondo, dell'esibizione, del mondo, della realtà strillata, no, quindi, come dire, amplificata, messa in piazza, a cui proprio, siamo proprio agli antipodi polarmente opposti, nel senso che, se tu conosci un figlio, una figlia della divina volontà, il massimo che puoi dire, esternamente, dice, ma, un bravo figliolo, un bravo figliolo, basta, non si vede un granché di più, ecco, però adesso, attenzione, perché adesso, poi la spiegazione che dà Gesù, è assai, è assai, entusiasmante, quindi, passano questi pensieri, veramente, pensieri, come dire, legittimi, no, dice, ma, tutto sto granché, questa santità, nella divina volontà, io non la vedo, mi sento la persona più insignificante del mondo, sto tutto al giornaletto, col filo in mano, e cucito il tombolo, poi alla notte, fino alla mattina, quando non viene il sacerdote, mi ritrovo un pietrita, come una mummia, dico, questa santità, è una divina volontà, poteva pensarlo, questa cosa qui, adesso, ci scherzo un po' sopra, però, cerchiamo un attimo di capire, no, e Gesù risponde, dice, figlia mia, attenzione, la santità, quando è individuale, a tempo e a luogo, a più del prodigioso esterno, per attirare quegli individui, luoghi e tempi, a ricevere quella grazia, ebbene che quella santità contiene, proseguo la lettura, poi spieghiamo, invece, la santità del vivere nel mio volere, non è santità individuale, assegnata a far bene a quei luoghi, a quei tali e a quei tempi, attenzione, ma è santità che deve far bene a tutti, in tutti i tempi e in tutti i luoghi, cioè, guardate, è una santità che resta eclissata nell'eterno sole, con la S maiuscola del mio volere, che invadendo tutti, è luce senza parola, è fuoco senza legna, senza strepito, senza fumo, ma con ciò non cessa di essere la più maestosa, la più bella e la più feconda. La sua luce è più pura, il suo calore è più intenso, vera immagine del sole che illumina il nostro orizzonte, illumina tutti ma senza strepito, è luce ma non ha parola, non dice nulla a nessuno. Il bene che fa è germe che feconda la vita, che dà a tutte le piante, e come col suo calore purifica l'aria, infetta e distrugge ciò che può nocere a tutta l'umanità, ed è tanto tacito che adonta che le creature l'hanno con loro e non gli fanno attenzione, ma con ciò non cessa di essere maestoso e bello e di proseguire il bene che fa a tutti e se venisse a mancare tutti lo piangerebbero, venendo a mancare il più gran miracolo della fecondità e conservazione di tutta la natura. Seconda pausa, per esempio è un passaggio fondamentale di più. Allora, San Francesco è un santo individuale, cioè San Francesco d'Assisi, figlio di Pietro di Bernardone, ha vissuto dal 1181, se non ricordo male, al 1226, 45 anni, in un'epoca storica e ben precisa. Allora, la santità di San Francesco è evidentissimamente legata alle circostanze storiche in cui San Francesco è vissuto. Non ci vuole un granché. Cosa ha fatto San Francesco? San Francesco fondamentalmente ha fatto due cose importanti. Uno, ha rinnovato la Chiesa con la fedeltà eroica al Vangelo in un tempo in cui i costumi della Chiesa erano in decadenza, non esclusi i più alti vertici della gerarchia. E l'ha rinnovata senza fare polemiche e distruzioni ogni riferimento a fatti a situazioni attuali e contingenti è puramente voluto. D'accordo? Ma semplicemente andando dal Papa dice io voglio vivere il Vangelo. È possibile? Posso vivere il Vangelo? D'accordo? E il Papa gli ha detto vivi il Vangelo. Benissimo, grazie caro Papa. Voi Dio vi benedica, io vi obbedisco faccio tutto quello che volete. Basta, finito il discorso. Ok? Questa era San Francesco. Prima cosa. Seconda cosa che ha fatto San Francesco importantissimo, ha determinato una trasformazione della vita religiosa perché fino a quel tempo i religiosi erano tutti monaci. Il monachesimo era un sistema politico ben preciso legato alle campagne. Adesso non possiamo qui fare una lezione di storia, però penso che più o meno il feudalesimo ce lo ricordiamo tutti quanti. E dentro un certo contesto legato ai feudi alla vita in campagna c'era il monastero e quello era il centro propulsivo della vita cristiana. Tu volevi incontrare il signore andavi in monastero, parlavi con l'abbà, parlavi con il monaco santo, d'accordo? Cosa stava succedendo nel 1200? Ricordiamo un pochino di storia, vi ricordate? Sono nati i cosiddetti comuni, cioè c'è una trasformazione come dire fondamentale, culturale, sociale, politica. La vita si sposta dalle campagne alle città e nasce la borghesia, comincia il commercio di chi era figlio San Francesco di un mercante, di stoffa. Quindi in Italia in particolare si assisteva a questa rivoluzione, questa era una vera rivoluzione e quindi che succede? Che il cuore del cristianesimo era rimasto in campagna come monasteri e però la gente e la vita era nelle città. Chi ci fa nelle città? I frati. Cosa faceva San Francesco la predicazione del mangelo itinerante? Dove andava a predicare? Nelle città. Nelle città. Sant'Antonio è famosissimo tutte le prediche che facevano nelle città, all'alta borghesia, a quelli che pensavano solo ai soldi e cose di questo genere. Sant'Antonio era francescano, vissuto poco dopo San Francesco. Anzi, non poco dopo, in contemporanea San Francesco d'Assisi. D'accordo? Quindi, vedete il santo individuale. Allora è chiaro che questo santo individuale doveva pure attirare un pochino l'attenzione perché il bene che il Signore voleva fare attraverso San Francesco era anzitutto diretto agli uomini e alle donne del suo tempo. Poi certamente ha fondato un ordine religioso e il Signore, come sappiamo dalle fonti francescane, per premio la sua santità ha promesso a San Francesco che fino a quando sarebbe perdurata la sua chiesa ci sarebbero stati sempre frati che seguono le sue orme. d'accordo? Ma in questo momento storico, per esempio, io ho tanti amici dalle frate minori che sono molto legati ai frati minori perché il mio padre spirituale è stato un frate minore e la parrocchia dove sono cresciuto era letta dalle frate minori quindi qui a chi mi ritocca? C'è un mio carissimo amico che è frate minore un amico proprio un fratello dei tempi dell'infanzia quindi sono molto legato a questa realtà. Mi dicono che in questo momento storico almeno dalle nostre parti soffre un pochino nel senso che c'è proprio uno stato di sofferenza derivante anche un po' da crisi vocazionali un po' da dinamiche che non sono molto bene che tra l'altro non è esclusivo soltanto dell'ordine francescano ma purtroppo coinvolge vari come dire settori diciamo così della vita consacrata. Quindi abbiamo capito quindi il santo individuale è un grande santo attenzione ma ha questa caratteristica attenzione adesso cosa vuol dire la santità nella divina volontà riprendo il passaggio di Gesù la santità del vivere nel mio volere non è santità individuale cioè non è assegnata a far bene a quei luoghi a quei tali a quei tempi ma è santità che deve far bene a tutti in tutti i tempi e in tutti i luoghi facciamo attenzione perché Gesù dice questo e cosa significa questo è un passaggio fondamentalissimo io spero per questo che adesso ho letto questi brani antologici che alcuni concetti siano passati perché il mondo della divina volontà è un mondo stupendo è un mondo semplice per certi aspetti però alcune cose vanno capite bene perché altrimenti non se ne coglie la potenzialità discriminante allora se io faccio un atto nella divina volontà anche un solo atto nella divina volontà se io prima di cominciare questa catechesi come spero di aver fatto dico viene divina volontà nel mio parlare cosa succede? io sto parlando questa catechesi di fatto nel tempo ha avuto un'ora di inizio un'ora di inizio è oggi che giorno è? 17 aprile 2018 è cominciata alle ore 16.45 come sempre alla diretta su Radio Buon Consiglio tra poco sarà terminata quindi storicamente questa catechesi ha questo ambito locale circoscritto farà del bene a qualcuno di quelli che l'ascoltano speriamo d'accordo io me lo auspico ed è anche il motivo insomma per cui prova a farla è una speranza certamente quindi sono cose che si mettono nelle mani del Signore poi saprà lui come rielaborarle toccare le coscienze se vuole se mi dà questo onore ne sono ben felice tanto è opera sua attenzione però quindi questo è uguale alle altre cose però attenzione se questo atto è fuso nel divin volere fuso nel divin volere il divin volere non è soggetto a limiti di tempo il divin volere è un punto che abbraccia tutto il fiat supremo dove tutto è in atto dove tutto è presente per cui gli effetti benefici di questa opera speriamo buona almeno da un punto di vista oggettivo cosa dice Gesù deve far bene a tutti in tutti i tempi e in tutti i luoghi cioè quest'opera buona viene presa nel divin volere e come dire attraversa scorre su tutta la storia su tutti i luoghi su tutti i tempi e il bene che può produrre tocca in maniera misteriosa ma vera tutti gli uomini di tutti i luoghi di tutti i tempi negli scritti non esclusi gli abitanti del paradiso se qualcuno non io sicuramente qualcun altro fa una bella catechesi sulla divina volontà in paradiso fanno la festa non solo perché era una bella catechesi ma perché è stata data gloria alla divina volontà e questa cosa si legge in altre parti degli scritti ridonda bene dei beati così come come dire retroattivamente siamo sempre nel tempo ma il fiat sta fuori del tempo può fare del bene anche a persone che sono vissute mille anni mille cinquecento anni prima di me che io non so neanche chi sia oppure a persone che adesso sono presenti ma che stanno a tutt'altra faccenda non sapranno mai chi è Leonardo Maria Pompei non lo scolteranno mai la catechesi né questa né nessun'altra magari stanno nelle foreste in mezzo ai big mail che ne so io cioè si si mette fondente tu dici qual è la differenza la differenza è che uno lo sa e lo fonde perché sa che la divina volontà è a disposizione degli esseri umani d'accordo è un dono che viene ripreso perché c'era stato è stato troncato questo cordone ombedicare e questo può trasformare gli atti umani in atti divini e se un atto diventa divino quell'atto trascende necessariamente i confini dello spazio del tempo e contingenti della storia per forza adesso poi la catechesi è una cosa appariscente ma se io a mente d'accordo sento un uccellino cantare e dico Gesù ti amo con la tua volontà metto il mio ti amo nel canto di questo uccellino d'accordo lo riconosco con un segno del tuo ti amo gli metto il mio ti amo dentro perché lui non te lo può dire ti amo in ringraziamento di questo dono che gli hai fatto ma te lo dico io per lui per me e te lo dico anche per tutti operazione mentale che dura 5 secondi 10 secondi questa operazione mentale che è un piccolo giro ormai ci siamo come dire familiarizzati con queste cose trascende i confini del tempo e della storia e porta un bene oggettivo a tutti poi Gesù spiega come dire il bene effettivo che verrà da questo fatto dipende anche dalle disposizioni di tutte le persone che vengono in qualche modo toccate dal bene prodotto da questo fatto perché c'è sempre la libertà della creatura ma il bene è comunque oggettivo oggettivo voi immaginate l'operazione di contrasto di lagare del male che può fare una persona che prende sul serio queste cose e comincia a metterle in pratica anche se è la persona più semplice più ignorante più insignificante del pianeta terra che è disoccupato che non c'è niente da fare che si sente inutile che pensa in solo fino a nessuno e comincia a fare un po' di giri un po' di atti non devi involere facendo vita santa capito? è così cioè questo è così cioè quello che c'è scritto negli scritti allora uno potrà dire cretinate o non cretinate padronissimo di dirlo ma quello che c'è scritto io adesso ormai come se ho fatto un quadro è questo e la sua come dire fondatezza teologica è assolutamente inoppugnabile inoppugnabile e qui parlo come dire con ragione di causa perché conosco un po' di teologia perdonatemi insomma l'atto di superbe che il signore mi perdona è inoppugnabile ed ecco perché questa non è una cosa appariscente perché cosa faceva Luisa? Luisa tutti gli atti le faceva a mente quando abbiamo visto le ore della passione ma guardate che soltanto pensare a una cosa di questo genere ma ce dovrebbe cioè se uno per esempio fosse convinto di una cosa di questo genere ma l'ora della passione la farebbe per forza tutti i giorni cioè quando io faccio l'ora della passione cioè la passione di Gesù storicamente parlando è avvenuta circa duemila anni fa ma quando io faccio l'ora della passione lì io entro nel divino volere e io mi faccio presente per cui se comincio a dare tutti i baci tutte le parti in certe ore a Gesù alle sue piaghe in quel momento preciso della passione tu devi pensare che quando Gesù duemila anni fa stava vivendo quella cosa ha ricevuto duemila anni fa la consolazione è il bene di quell'atto che tu stai facendo oggi questa è la divina volontà questa è la peculiarità cioè fuori di questo qui e di qualche altra cosa non si coglie l'aspetto quindi questa non è più santità individuale questa è santità che deve far bene a tutti in tutti i tempi e in tutti i luoghi non è appariscente perché basta muovere bene la nostra volontà cioè è una santità che oltre a tutte le altre cose ti fa anche comprendere il potere che ha la tua volontà cioè a me per esempio mi possono mettere in galera mi possono ammazzare botte capito mi possono di Dio non voglia insomma dove si fa qualche guaio quello dell'autorità della chiesa mi rinchiudono al castello Sant'Angelo non so come fanno capito mi possono fare tutto quello che ti pare ma la mia volontà non ci posso fare niente nessuno capite cioè se uno mi ti spreta ti toglie tutti i poteri ti mette in galera non lo so ti rinchiude al manicomio non so che cosa succede la mia volontà può continuare tranquillamente a dire continuazione Gesù ti amo con la tua volontà metto il mio ti amo di qua di là a destra a sinistra giro per il creato giro per la redenzione mi rivivo tutta la vita terrenica della Madonna tutti quanti gli atti di Gesù e continuo a fare un beneficio immenso all'umanità e a dare a Dio una gioia una gloria di vedere in me gli atti infiniti capito non è uno scherzo questo qui non è uno scherzo perché il fatto che non si veda nulla non è unice ma se vede niente ma che sarà sta roba allora io il discorso che faccio vogliamo vogliamo vedere quello che si vede e quando un prete consacra tu che vedi guardate che il potere capite bene questa espressione il potere di un prete che consacra è molto analogo al potere di un atto compiuto nella divina volontà uno che penso che sia chiaro perché quel pezzo di pane diventa il corpo di Cristo perché 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 la divina volontà ha stabilito e la divina volontà è onnipotente è produttrice è generativa ha in sé la capacità di creare io quando consacro lo creo Gesù sull'altare lo produco è proprio un meccanismo di produzione prima non c'era e dopo c'era ma non è che so io io ma ci trovo questo vale qualunque prete della chiesa cattolica ma io stesso vi parlo da prete insomma che tra poco vado a celebrare la messa che sono il soggetto di questa cosa io sto là e dico mamma mia ma che sta succedendo ma veramente consacro è certo che veramente consacro ma che cosa si vede niente non si vede niente non si vede quando io traccio un segno di croce che faccio una benedizione che si vede niente ma un segno di croce fatto con fede da un sacerdote è una bomba atomica allora se io faccio un atto nel divino volere che si vede niente ma quell'atto scorrendo potenziato dalla divinità produce tanto di quel bene che Dio solo lo sa noi non lo sappiamo cioè Gesù in alcune parti riscritti dice tu non hai idea di quello del godimento che provo quando ti vedo fare anche solo un atto nella mia volontà anzi sta attenta che non devi non devi essere manco un vuoto ti hai manco un secondo se vuoi farmi proprio felice 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 ecco questo è ecco perché siamo dinanzi a qualcosa di grosso proseguo la lettura mazzana se no qui non facciamo manco un tempo a finire sto scritto che non stiamo manco a metà allora più che solo è la santità del vivere nel mio volere un'anima retta attenzione è tutta ordinata nella mia volontà è più che un esercito in battaglia qui ritorniamo agli scritti di San Luigi Maria Bonfort che parlava delle anime totus tus come schiere spiegate a battaglia ma quale battaglia è come se combatte da questo che oggi vogliono tutti quanti la guerra qua sono tutti guerrieri oggi bisogna vedere quale battaglia e come si combatte e agli ordini di chi e perché allora guardate la sua intelligenza è ordinata e vincolata con l'intelligenza eterna oh ma ragazzi qui è tanta roba qui è l'intelligenza vincolata con l'intelligenza eterna vuol dire che piano piano questa intelligenza eterna ti parla dentro il cervelletto ti comunica tante cose ti fa pensare dritta d'accordo non ci stanno più le svalvolate capito non ci stanno più hai visto le rotelle svalvolate ci stanno più non ci stanno più comincia a pensare in maniera corretta che è già mezzo miracolo d'accordo con i tempi che corrono ok i suoi palpiti affetti desideri sono ordinati con vincoli eterna palpiti mettetevi un attimo tirati la mano sul cuore proviamo a sentire boom 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 o sul polso quelli sono i palpiti bene quel palpito è vincolato con vincoli eterni gli affetti gli affetti chiaramente belli gli affetti i desideri sono ordinati con vincoli eterni sicché i suoi pensieri la sua volontà attenzione il suo interno sono eserciti messaggeri che da lei partono e riempiono cielo e terra sono voci parlanti sono armi che difendono tutti attenzione e chi per primo è per primo il loro dio cioè quando ero piccolo c'era Nino Frassica indietro tutta che diceva non so se mi rendo conto di quello che dico sono armi che difendono tutti e per primo il loro dio cosa? i palpiti gli affetti i desideri gli atti della volontà e dell'intelligenza difendono Dio chiaro? non solo portano il bene a tutti a tutti a tutti sono la vera milizia celeste e divina questa è la vera milizia celeste e divina questa non quella di quelli che fanno la rivoluzione le battaglie armate le polemiche le questioni è questa la milizia divina sicuramente benedetta dal cielo perché questa produce solo bene senza nessun tipo di controindicazione zero non ci sono controindicazioni qui non ci sono pericoli niente c'è niente che non sia divino zero sono la vera milizia celeste e divina che la suprema maestà tiene tutta riordinata in sé e sempre pronta a tutti i suoi ordini io dico ragazzi cioè io quando leggo queste cose mi tengono vengono sempre in mente le parole di santa bernardette subiru d'accordo a me la madonna mi ha detto di dirvelo non di farvelo credere quindi qui questo è quello che c'è scritto uno può tranquillamente pensare farne indicazioni ricordiamo però che questa donna era analfabeta cioè aveva la prima elementare la prima questi concetti io sfido sfido i teologi dogmatici quelli che hanno il mio stesso titolo di studio a leggerli e a capire tutto a primo acchito senza nessun tipo di difficoltà si capiscono d'accordo ma a mio avviso è necessario un sacerdote che entri bene come del resto Gesù stesso dice l'abbiamo sentito nel racconto della settimana scorsa e che come dire spezzettini un po' centellini un po' queste cose qui perché questa è tanta roba questa qui cioè non è immediatamente intuitiva cioè questo non è uno scritto non è romanzo non è che ti puoi mettere a leggere gli scritti di Luisa la sera prima che va a dormire se puoi leggere dopo lì non la sera prima che va a dormire non gli scritti di Luisa Piccarreta certamente d'accordo perché ha da stacce che ha la capa e tanto eppure se uno ci sta con la testa io comprendo le persone che trovano qualche difficoltà ma l'esperienza di moltissime persone preti compresi e io li conosco è per cominciare a raccapezzarci qualcosa ci vogliono uno o due anni cioè perché all'inizio uno sta proprio ubriaco adesso fa un sacco di botte ti fa una vascia come un pallone ti fa una vascia che tu non sei più da parte ma che è sta roba cioè devi un attimo connettere un momento fa un momento erogare cioè è così a me grazie a Dio siccome ho giocato un sacco di botte tutta quanta la vita mi sono abbastanza parlato bene e mi sono riviato un pochetto prima insomma quindi un pochino di ordine si riesce a fare però è così è impressionante questa roba qua impressionante allora e adesso andiamo al clou che il clou deve ancora arrivare il clou deve ancora arrivare e poi c'è l'esempio della mia mamma attenzione allora siamo tutti d'accordo spero ecco a meno che non vogliamo non essere più cattolicissimi siamo tutti d'accordo che la Madonna non soltanto come San Giuseppe è la più santa tra i santi perché quando si dice San Giuseppe è il più santo tra i santi vuol dire che tra gli esseri umani San Giuseppe è il numero uno e questo non lo si può dubitare semplicemente perché il nostro Signore ingemette a fianco alla Madonna e come padre putativo del suo figlio divino unigenito il primo che passa d'accordo quindi solo per questo solo perché starò scelto per questo sicuramente San Giuseppe va al di là di tutti gli esseri umani ma la Madonna non è solo la numero uno fra gli esseri umani la Madonna è la numero uno in assoluto la Madonna ha scavalcato tutto l'ordine angelico tutto nessuno escluso compreso San Michele tutti quanti tutti e il motivo per cui Lucifero è tanto arrabbiato con la Madonna è questo perché è stato scavalcato e sarebbe stato scavalcato anche se fosse rimasto Lucifero buono perché con la Madonna non ce n'è per nessuno non ce n'è ma vero per nessuno questo è questo è verità divina e cattolica cioè non si discutono queste cose d'accordo da sola vale per tutti i messi assieme e anche il concilio Vaticano II io ho fatto la tesi dottorale su questo su questo punto quando la Madonna viene definito tipo e modello della Chiesa il decimo capitolo della mia tesi io dimostro che quando si dice della Madonna che è tipo della Chiesa non è come quando si dice che Abramo voglio dire che Isacco è tipo di Cristo è figura di Cristo perché Isacco era meno rispetto a Cristo che doveva venire ma quando si parla della Madonna come tipo della Chiesa non è che la Chiesa è più della Madonna no no è che la Madonna da sola non è semplicemente un tipo non è neanche semplicemente un prototipo è l'archetipo d'accordo cioè è la perfezione assoluta di ciò che la Chiesa è nella mente di Dio concentrata in una sola creatura per questo che supera tutti e ricomprende tutti allora adesso Gesù dice vogliamo andare a vedere come è vissuta la Madonna cominciate a fare subito qualche qualche prequel no ma la vita terrena della Madonna è stata una vita come la San Francesco o di Sant'Antonio vediamo andiamo a chi vuole essere milionario domanda quanti miracoli ha fatto la Madonna nella vita terrena sentiamo quanti miracoli peccato che stiamo in diretta radio e facebook nessuno non ha fatto non ci sono miracoli sappiamo che a Cana ha tirato un pochettino per la veste suo figlio e gli ha fatto fare a lui però uno prima del tempo basta e tra l'altro non se ne è accorto nessuno perché è stata una cosa umma umma tra lei e Gesù se non la scrive a San Giovanni che sa San Giovanni sicuramente gliela gliela ha detto lei perché sono scampati insieme altri 25 anni dopo l'ascensione ma manco l'avremmo saputo va bene non l'avremmo saputo così come se solo San Giovanni ha scritto donna è cotofiglia figlia è cotomata semplicemente perché a fianco alla Madonna c'è la San Giovanni se no forse manco quella l'avremmo saputo d'accordo chiuso ecco vediamo come è vissuta la Madonna e poi c'è l'esempio della mia mamma riprendo la lettura vera santità del vivere nel mio volere perché la Madonna è l'emblema della santità nella divina volontà il modello inarrivabile e dove stava questa grande santità della Madonna eccola tutto eclissato il suo interno interno nell'eterno sole della volontà suprema e che dovendo essere la regina della santità dei santi guardate che bella espressione la regina della santità dei santi non solo la regina dei santi ma la regina della santità dei santi madre e portatrice della mia vita a tutti ah possono possono staffare storie quanto gli pare che non la vogliono riconoscere che lei ha fatto bene ma no ma è il primato di Cristo la Madonna che c'entra fai fai tanto quando vai in paradiso questo vedi quando lo è davanti al nostro signore portatrice della mia vita a tutti e quindi di tutti i beni restava come nascosta in tutti portando il bene senza farsi conoscere se c'è la santità nascosta per antonomasia è quella della Madonna ne hanno beneficiato tutti e ne beneficiano in continuazione tutti della figura di Maria Santissima e a volte sta così nascosta che perfino coloro che dovrebbero portarla in pianta di mano che siamo noi abbiamo qualche riottosità generalmente in buona fede dovuta ignoranza o a timore di oscurare un pochettino il sole di Cristo ma comunque anche noi che dovremmo portarla in un palmo di mano ogni tanto abbiamo qualche remora figuriamoci gli altri prosegue la lettura più che tacito sole portava la luce senza parola il fuoco senza strepito l'espressione che prima ha usato Gesù il bene senza farsi editare attenzione non c'era bene che da lei non partiva neanche uno neanche uno non c'era miracolo che da lei non scaturiva non solo le nozze di cana ma a tutti vivendo nel mio volere viveva nascosta in tutti ed era origine ed è dei beni di tutti chiaro? era tanto rapita in Dio tanto fissata termine tecnico di questi scritti magari fossimo tutti fissati in senso buono qui purtroppo invece tirano tanti fissati in senso negativo era tanto rapita in Dio era tanto fissata e ordinata nella divina volontà che tutto il suo interno l'anima della Madonna beato chi la può conoscere un pochino nuotava nel mare dell'eterno volere stava a giorno di tutto l'interno di tutte le creature ci metteva il suo per riordinarle innanzi a Dio chiunque ascolta questa catechesi cioè a cui gli arrivano queste parole sappia e lo sappia per certo che la Madonna sta dietro qualunque bene naturale materiale morale spirituale di grazia che abbia ricevuto senza nessun dubbio e le sia grato se vuole fare contento nostro signore e ricevere molti ulteriori benefici era proprio l'interno dell'uomo che aveva più bisogno di essere rifatto riordinato più che l'esterno questo vale anche per noi la santità non è fatta di cose esteriori e appariscenti certamente certamente la santità inevitabilmente ritonda nell'esteriore la Madonna che era così tutta santa all'interno non andava in giro perdonatemi l'ironia in bermuda e canottiera state proprio tranquilli d'accordo è ovvio d'accordo ma non andava in giro in bermuda e canottiera per quello che c'era all'interno non viceversa perché se tu vai in giro vestita come una suora e dentro sei in diavolo non serve a niente o con non buone e corrette motivazioni perdonatemi però bisogna bisogna avere un pochino di idee chiare no era proprio l'interno dell'uomo che ha più bisogno di essere rifatto riordinato più che l'esterno e dovendo fare il più sembrava che lasciava il meno mentre era origine sia del bene esterno che dell'interno eppure apparentemente ecco il punto sembrava che non facesse opere grandi e strepitose dunque la santità di rinvolere non comporta cose grandi e strepitose e quindi per questo non dovrebbe essere la santità più grande di tutti ecco la risposta di Gesù obiezione vostro onore obiezione e chi è la più santa di tutti è la madonna e quali grandi cose osteriori e quali grandi cose strepitose ha fatto visibili nessuna quindi c'è piena identità no e quale santità ha vissuto la madonna la santità nel divinvolere quindi è proprio della santità nel divinvolere non fare grandi cose appariscenti giusto e quindi questo sotto certi punti di vista anche se qui stiamo a vette altissime voi capite che rende di per sé accessibile quando faremo una catechesi famosa non mi sto parlando 500 miliardi di volte mi cominciano a scrivere le mail quando la vuoi quando la fai cosa non è la santità nel divino per esempio non è una roba da elite ci sono pochi eletti che vivranno no no saranno pochi dice Gesù ma non perché è argomento riservato perché pochi ci crederanno d'accordo ma di per sé questa qui ripeto la persona più semplice più ignorante del pianeta terra e lui sarà una di queste può tranquillamente vivere la santità nel divino volere tranquillissimamente anzi più facilitata per certi aspetti torniamo allo scritto lei cioè la madonna più che sole passava inosservata e nascosta nella nube di luce della divina volontà tanto che gli stessi santi hanno dato di loro apparentemente facendo cose più strepitose che la mia stessa mamma giusto la madonna mica risuscitato nessun morto sant'antonio da padova si e manco uno solo eppure che cosa sono i più grandi santi innanzi alla mia celeste mamma sono appena le piccole stelle paragonate al gran sole e se restano illuminate la causa ne è il sole ma la donta che non faceva cose strepitose qui non si fanno cose strepitose qui però si ricevono grazie strepitose e bisogna provare per credere adolta che non faceva cose strepitose voi immaginate come come campava la madonna sul pianeta terra secondo noi bella domanda ognuno si dia la propria risposta io me la sono ampiamente data insomma come campava qual era il suo tasso di unione e di intimità con Dio quante cose Dio gli manifestava di sé quante cose gli rivelava quanti segreti gli confidava certo anche la madonna ha dovuto percorrere la sua vita terrena senza nessun dubbio come insegnava San Giovanni Paolo II come pellegrina della fede nel senso che neanche con la madonna Dio cosa che non fa con nessuno non si comportava facendo come dire il chiaroveggente con la madonna nel senso di ah guarda che adesso domani succede questo quindi preparati questo assolutamente no la madonna ha vissuto una vita reale umana e ha dovuto praticare esercitare tutte quante le virtù tra cui una fede eroica come testimonia il fatto che fu l'unica a credere e a perdurare nella fede e nella risurrezione perché non conosceva tutti i futuri contingenti della sua vita quindi questo sicuramente possiamo pensare che Dio non gli abbia dato ma quante altre cose che non ci passa manco per l'anticamera del cervello ed è giusto che così non sia perché non siamo neanche degni di pensarci per la nostra misera e piccolezza quante quindi niente cose strepitose da fare eh ma grazie strepitose da vivere sì perché se tu stai a contatto con questo mondo tu in un certo senso tra virgolette come dire cioè è impossibile che non ricerci alcune cose perché stai fuso con il principio di ogni operazione divina che è la divina volontà con il concentrato con il contenuto con il veicolo dell'amore dell'eterna felicità che Dio è ed è la sua volontà quindi è impossibile che non ti arrivi qualcosa proprio impossibile è impossibile impossibile perché se è vero che la santità nel divino volere fa bene a tutti gli uomini di tutti i tempi di tutti i luoghi è evidente che faccia del bene anche al diretto interessato a chi ci vive d'accordo il sole illumina tutti ma è anzitutto luce lui allora ma la tonta che non faceva cose strepitose non cessava anche apparentemente di essere maestosa e bella oh i santi che vivono nella divina volontà questa è una cosa che farà felice in molti sono tutti belli sono tutti belli per forza una bellezza come dire che non dipende come dire soltanto ed esclusivamente dalla dotazione naturale d'accordo quindi dalla complessione generale ecco dei nostri particolari morfologici d'accordo quindi anche chi ci ha pochi capelli può diventare bello non ci sono speranze da perdere perdonatemi sempre un pochino di battute però è la bellezza che rifugge è uno sbocco dell'anima che non può essere trattenuta la si vede e la si coglie particolarmente negli occhi nello sguardo ma non solo ecco perché c'è un beneficio c'è un benessere ecco trasudante anche in noi che è diverso da quello che noi cioè io posso per esempio impormi è una cosa molto buona da un punto di vista ascetico posso impormi per esempio di avere dei comportamenti esteriori un po' più aggraziati un po' più dolci di non gesticolare di non alzare la voce di non fare gli sguardi brutti di non alzare gli occhi al cielo queste cose qua no? e queste sono operazioni molto gradite al cielo insomma perché il controllo di noi stessi nella fase ascetica della santificazione è fondamentale ma se tu stai dentro la divina volontà attenzione tu non fai nessuno sguardo brutto non fai nessuno gesto cioè è completamente differente cioè ci sono dei passaggi degli scritti poi li vedremo cioè la vita ascetica comporta tanti sforzi comporta tante rinunce comporta tanto impegno per ottenere a volte gracilini di risultati tu stai a combattere contro la passione dell'ira e fai un passo avanti 40 indietro cioè una volta ti stai calmo e tranquillo ma ogni anno del fegato facendo una fatica a trattenerti 40 volte sbotti d'accordo questo è normale questo qui ma se entri nella divina volontà la passione dell'ira fa così fa poff non c'è più non c'è poff non sono compatibili queste due cose il diavolo fa il pazzo d'accordo ma se entri nel divino volere fa poff perché il diavolo scappa non ha potere contro questo non ci sta allora adonta resto nascosto non faccio niente di strepitoso come era la madonna è sempre bellissima rimane sempre inesorabilmente adonta che non faceva cose strepitose riprendo non cessava anche apparentemente cioè esteriormente di essere maestosa e bella sorvolando appena la terra tutta intenta a quel volere eterno che con tanto amore e violenza attenzione amore e violenza affascinava rapiva per trasportarlo da un cielo in terra attenzione tutta intenta a quel volere eterno bellissimo questa immagine la madonna non aveva altra attenzione e intenzione che quella deve stare di stare continuamente fusa e unita a lui e questa sua attenzione amorevole che dice lo ha affascinato io quando sento dire queste cose quando io mi immagino una madonna che ha affascinato dio ma a me è proprio una cosa che mi manda in estasi cosciente in tilt d'accordo cioè c'è una creatura che ha affascinato dio oh ragazzi tanto amore mi ha affascinato rapiva la rapitrice di dio cioè io dico sempre l'ho già detto forse con un'altra catichese mi immagino sempre che avete visto non lo so mi immagino come se c'è un lazzo un lazzo con un gancio lo lancia verso il cielo lo aggancia Gesù e poi lo tira giù e Gesù che dice che faccio vado ma sì vado per forza è un'immagine però è così queste parole sono sono pazzesche sono intenta quel volere eterno il contanto amor e violenza affascinava e rapiva per trasportarlo dal cielo in terra l'ha trasportato la capite vieni namo e che l'umana famiglia aveva così brutalmente esiliato fin nell'imperio guardate che stacco no l'uomo sciocco che dice non me ne importa niente della divina volontà faccio le testa mia peccato originale e questa creatura che non pensa altro che al divino volere fino a riportarlo giù in quella terra dove era stato esiliato brutalmente bruttissima questa espressione ma vera e lei col suo interno tutto ordinato nel divino volere attenzione non dava tempo al tempo se pensava se palpitava se respirava e tutto ciò che faceva non c'era niente capite? cioè non si può non si fa immaginare roba del genere erano vincoli affascinanti per attirare il verbo eterno sulla terra cioè la madonna faceva ecco qua questo era un vincolo che come dire ammaliava attraeva rapiva il verbo di Dio un respiro della madonna io dico ma perché qualcuno non mi prende nel divino volere non mi porta un attimo un giorno cinque secondi a Nazareth a vedermi un respiro ma contento solo con un respiro e poi ci torniamo indietro però purtroppo non c'è data a noi comuni mortali di vedere sta roba qui ma guardate che tanta roba questa qua e di fatti vinse e fece il più grande miracolo che nessun altro può fare non ha fatto il miracolo della madonna sicuri? sicuri? ha fatto il più grande che si possa fare ha fatto scendere il verbo sulla terra insomma non mi sembra piccolo miracolo è come quando io vado al catechismo e dico avete mai visto un miracolo? no non l'avete mai visto ma davvero ma non siete mai state ammessa? eh sì che è quello che c'entra come che c'entra? e te pare che il miracolo che si vede ammessa è non è il più grande miracolo che esista? dopo l'incarnazione? lo è? basta studiare bene la transustanziazione lo è ma non è appariscente e manco l'incarnazione è stata appariscente perché l'incarnazione non ha vista nessuno c'erano l'alcangelo Gabriere e la madonna e basta finito il discorso allora concludiamo lo scritto questo è il tuo compito figlia mia attenzione io dico sempre quando Gesù parla a Luisa chiunque desidera entrare nella di una volontà a tizzi le orecchie a pizzi le orecchie perché è anche per lui quindi questo è il tuo compito figlia mia affascinarmi un bel compito no? tu che stai ascoltando questa catechesi sappi che se vuoi entrare nella di una volontà vuol dire che vuoi affascinare l'altissimo rapirlo con il tuo fascino dice lui affascinarmi vincolarmi tanto col tuo interno tutto riordinato la madonna era ordinata noi dobbiamo riordinare tutto il nostro interno nel supremo volere da trasportarlo dal cielo in terra anche noi affinché sia conosciuto e abbia vita come in cielo così in terra attenzione altra indicazione fondamentale e qui mi si permette di usare l'espressione di Gesù chi può capire capisca di tutto il resto non ti dare pensiero non ti dare pensiero chi deve fare il più non è necessario che faccia il meno anzi si dà il campo a che gli altri facciano il meno per dare a tutti il lavoro lascia che se ne occupino altri altri non ti preoccupare questo risolverà anche tanti problemi a mio avviso ma la divina volontà è compatibile con la spiritualità x y z alfa gamma beta la divina volontà è compatibile con tutto di per sé stessa ma ma essendo un un'attività interiore necessariamente globalizzante e totalizzante valuta in coscienza cosa sia opportuno fare qui Gesù dice di tutto il resto non ti dare pensiero lo dice lui e rimane alla nostra persona la valutazione chi deve fare il più non è necessario che faccia il meno anzi si dà il campo a che gli altri facciano il meno per dare a tutti il lavoro so io quanto è necessario il tempo il luogo le persone quando devo far conoscere anche con prodigi esterni le mie opere più grandi ti preoccupai tu segui sempre il vuoro nel mio volere riempiendo cielo e terra come lo dico con gli atti nella divina volontà da affascinarmi tanto da non poter resistere a fare il più grande miracolo che il mio volere regni in mezzo alle creature e il volere divino regnerà solo quando anche questo si capisce dagli scritti anime che sono già entrate perché il divino volere comincia come ha cominciato il regno di Dio in sordina quindi non comincia a meno che mai questo con grandi apparati o ecco paparapà tutti quanti al regno di in volere no sono delle singole anime sparse chi qua chi là che entrano in questo mondo e cominciano a moltiplicare gli atti gli atti gli atti a metterli in giro dappertutto quando sarà raggiunto il numero di atti stabilito dal cielo non sappiamo come non sappiamo dove non sappiamo che succederà dove quando ma sappiamo che Gesù vuole che il divino volere regni come in cielo così in terra come stiamo recitando tutti i giorni nel Padre Nostro d'accordo e questo deve essere la nostra principale occupazione e anche l'intento della nostra preghiera venga il regno del Fiat Supremo venga il tuo regno venga il regno di Maria perché il regno della Dina Volontà il regno della Madonna sono la stessa identica cosa io ho sempre una mia idea personalissima che la devo aver conosciuto questo mondo il trionfo del cuore immacolato di Maria promesso a Fatima promesso a Fatima è promesso ma non lo vediamo ancora in atto coinciderà con il trionfo e con l'avvento del regno della Dina Volontà sulla terra punto interrogativo io spero tanto di sì non mi stupirei affatto se fosse così sinceramente mi permetto di desiderarlo fortemente che sia così e in questo desiderio penso certamente che anche se così non fosse ma la Madonna sarebbe certamente contento di vederlo nel cuore dei suoi figli e dei suoi devoti detto questo possiamo darci appuntamento per chi lo desidera la prossima settimana lasciando a tutti voi ascoltatori la mia benedizione fiat ave maria grazie a tutti grazie a tutti